Ciao! Oggi faremo un video bellissimo! Faremo una valigia challenge alla trave. Praticamente ognuna di voi farà un elemento o coreografico o ginnico o acrobatico e secondo me alla fine comporremo un bellissimo esercizio. Chi è che inizia? Irene, la nostra fenicottera. Allora, mi raccomando, è la stessa cosa della valigia challenge al trampolone, ok? Quindi tu parti, fai un elemento, quella dopo aggiunge un elemento al tuo fino a che facciamo un esercizio. Chi sbaglia viene eliminato. Però questa cosa non so se la so fare. Non so, vediamo. Vedremo. In che senso? Alza un braccio solo, scusa. Eh, bravo. Ok. No, Irene, un elemento solo. Vai, chi va dopo? Eh, sì. Eh, sì. Brava. Aggiungi un elemento che è questo. Si possono? Ed ecco, letti. Perfetto! Ragazzi, guardate bene perché... se sbaglia... Se sbaglia... Bene. Emma! Emma! Emma, mi raccomando, è piano? Ok! Ma io sulle calze, ragazzi. È un elemento, puoi farne cento. Ok. Va bene? Cambio! Vedi che stiamo componendo un bellissimo esercizio, eh? Emma! Anche per te questa entrata è bellissima, è perfetta. Eh, mi sa di sì. Chi tocca? Erika. Vieni qua dietro, Emma, e così mi dici se qualcuno si dimentica. Non conviene che lo scriviamo? Vai, Erika. Anche per l'Erika, questa entrata è proprio per te. Ok! Vai! Quale l'eleganzia! No! 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 Brava! Sì! Ok! Io ho un problema, non me lo ricordo. Eh, se lo guardi, guardalo! Vai! Ma hanno sbagliato il braccio, però! Ma perché piange la crescola c'ha? Perché lì viene staccato il braccio a sinistro. Beh, non l'ho mai scusata. Beh, ma anche la grama adesso non capire più. Ok! Eh, vabbè! L'importante è le giambe. Non suggerite, eh! Ok! Brava! Ottimo! Chi va? Irene! Quello è il saluto del fenicottero? Spider-Man! Terima! Ciani! brava Irene ok chi è la seconda? Giadi non c'è nulla non c'è nulla c'è nulla è svegliato non te lo possiamo dare già di ciao parte Letizia no eliminata ciao Letizia chi parte? Nicole ma chi c'è adesso? la Michi? ok vai bene per Michi Faddi passaggio coreografico no sì scusa scusa ok benissimo Erika no anche Erika è eliminata su questa entrata Camilla grazie Silenzio. Ok, brava Camilla, Irene. Concentrazione? Mi ha schiacciato anche l'occhiolino, hai visto? Un artista. Ha fatto tutto giusto? Bravissima! Chi va? Nicola. Concentrazione? Concentrazione? Sbagliato! Sbagliato! Sbagliato? Ah! E lei cosa ha fatto, scusa? Chiudo, apro. Ah, chiudo, apro. Ok, mi spiace! Emma, parti! Ciao, Emma, mi dispiace, sei eliminata. Camilla! Parte Camilla! Vai avanti! Sbagliato! Sbagliato! Secondo posto? Perché ha vinto per te l'ultima. No, ha perso. Quindi secondo posto per la Cami e terzo posto? Per te! Per te! Vai, Miki! Perché così in alto, ragazze? Ok. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Lasciate tanti like e ricordo di attivare la campana per ricevere tutte le notizie di questi nuovi video. Ciao!